Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Oggi andiamo a continuare la nostra analisi delle carte Aspetto per Marvel Champions con il primo pack uscito nel primo ciclo, Captain America, quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente antico. Captain America che oltre ad essere un eroe secondo me molto attuale, arriva nella sua versione Leadership e quindi andremo a commentare queste carte, ma prima di lanciarci in queste carte vi racconto questa breve cosa perché io avevo già registrato questo video prima di pubblicare il video di analisi delle carte. Siccome il video di analisi delle carte del corsetto ha avuto molte visualizzazioni e tanta partecipazione a livello di community, ho deciso di riregistrare l'introduzione principalmente per ringraziare la community per il supporto, per la presenza, per i commenti a quel video cosa che mi sembrava doverosa e per dirvi continuate a commentare perché in realtà ho notato che si creano degli spunti di discussione molto interessanti sia diciamo sul canale che sul server Discord la community sta crescendo molto, questo è l'elemento che più mi sta a cuore ma soprattutto il poter rivedere delle carte con degli occhi ormai di un gioco più maturo che ha 4-5 anni e collezionare i commenti della community fa sì che chi vede il video ma anche segue i commenti ha veramente tanti spunti interessanti di riflessione su carte magari vecchie che oggi acquisiscono un nuovo valore per cui ci tenevo a fare questa breve introduzione, perdonatemi, poi ci lanciamo subito nell'analisi delle carte però ci tenevo per ringraziarvi e per dire continuate comunque a commentare, a dire questa carta la vedevo meglio, questa carta grazie che mi ha dato uno spunto diverso ti darei un altro spunto su questa carta perché poi in realtà aiuta secondo me tutta la community non solo voi ma anche me ma tutta la community in generale a rinfrescare alcune carte che magari sono finite un po' nel dimenticatoio giustamente ma che in realtà hanno il loro valore e anche il loro aspetto di divertimento quindi bando alle ciance entriamo nell'analisi delle carte iniziamo subito da Falcon, Sam Wilson, eroe da costo 4-2-2-3 quindi siamo di fronte a un Daredevil per intenderci come statistiche e punti ferita aereo, Avenger, risposta dopo che Falcon entra in gioco, guarda le top 3 carte del mazzo degli incontri per ogni treceri, per ogni stregoneria, per ogni insidia guardata in questo modo rimuove una minaccia da una trama allora è chiaro che Falcon può essere molto altalenante voi potete farlo entrare e rimuovere addirittura tre minacce oppure zero normalmente ne toglierete una, magari due perché magari ci sarà un minion, magari c'è una sideski, magari c'è una giunta magari c'è una treceri quindi come dire, certe volte potrebbe andarvi molto bene, certe volte no tuttavia Falcon ha in sé un vantaggio che è quello del fare scry del mazzo che cosa vuol dire? vuol dire che sostanzialmente quando giocate in true solo voi andate a vedere la carta che esce come potenziamento del criminale la carta che esce come carta incontro durante il prossimo turno e la carta potenziamento successivo ora, nella mia esperienza degli LCG la possibilità di fare scry del mazzo è qualcosa da non sottovalutare in linea generale, sapere che cosa ti aspetta aiuta tantissimo quella che è la strategia del turno sia del turno stesso che nei turni successivi quindi diciamo, l'abilità di Falcon ha un suo potere nel momento in cui va a rimuovere minacce ma ha anche una sua abilità di scry per i turni successivi per esempio, se voi scoprite che il potenziamento fa certe cose non lo so, l'attacco tiene sopraffazione beh, allora non parerete con un alleato se scoprite che il potenziamento vi fa tappare un personaggio beh, allora saprete che cosa conviene fare oppure fa dei danni diretti oppure, insomma, scoprendo quello che è il potenziamento potete giocare di conseguenza se addirittura scoprite quella che è la successiva carta che vi uscirà vi dà la possibilità di impostare il turno in cui Falcon entra in gioco in maniera più o meno aggressiva più o meno mirata a quella ovviamente Falcon ha un costo 4 questo significa che quando giocherete Falcon in sembianza di eroe non è che potrete fare molto altro ma supponiamo che avete altri alleati avete altre possibilità e così via questo vi permette per quel turno di capire che cosa è meglio fare in funzione di quello che andrà a succedere quindi come dire, Falcon è un pezzo secondo me interessante in linea costi ed effetti con un effetto che può avere un buon effetto di entra in gioco e ancor più, anche se dovesse emissare perché va a vedere le carte quindi ci dà un'idea su quello che in true solo è la panoramica del potenziamento del prossimo turno e del potenziamento successivo chiaro che se si ha in 3-4 giocatori questa cosa aiuta un po' meno forse però vi dà la possibilità di ottimizzare meglio le difese se voi appunto avete un potenziamento che fa o sopraffazione piuttosto che magari privilegerete parare con un eroe se voi avete un infliggere i danni a qualcuno magari già lo sapete ed evitate di fare certe cose quindi la sua abilità è direi abbastanza comoda in linea generale è un personaggio che forse nel tempo va a perdere un po' anche se ha dei tratti tratto Avenger che anche in questo pack acquisirà molta importanza il tratto aereo che acquisirà importanza un po' più avanti che lo rendono comunque interessante e appetibile prima di spostarci verso il prossimo alleato ci tengo a fare un cosiddetto salto nel futuro cioè abbiamo accennato che il tratto aereo sarà sviluppato dove sarà sviluppato perché anche per il mio background in realtà io sono molto interessato all'aspetto del tratto aereo che fino alla wave attuale degli X-Force non aveva ricevuto grandi potenziamenti ne vediamo velocemente qualcuno ma in realtà è col pack Angelo che ottiene veramente molte carte che rendono il tratto aereo un qualcosa temo purtroppo che Falcon in realtà appartenga a un tratto aereo un po' primordiale spesso capita nei giochi di carte in cui mi riferisco al Signor Ianelli ma anche a Arkham in cui viene introdotto magari un archetipo tipo un tratto gli viene data un'abilità poi a distanza di anni quel tratto viene sviluppato e si intuisce che c'è un po' di ruggine su quell'abilità rispetto al tratto originario poi nel complesso ci sta questa evoluzione ci sta il fatto che non è detto che i primi personaggi siano perfettamente allineati come abilità nei secondi personaggi ci sarà sicuramente qualcosa che li richiama ed è il caso per esempio di Falcon adesso vediamo perché ma è anche un po' apprezzabile per vedere un po' l'andamento del gioco in particolare entrando nello specifico un primo pack che di fatto introduce qualcosa per il tratto aereo oltre a carte sparse perché le carte sparse sul tratto aereo ci sono ma sono tutte basate sul se la tua identità ha il tratto aereo e chiaramente Falcon essendo un eroe non è che dà la vostra identità al tratto aereo l'unica invece pack almeno dalla ricerca che ho fatto ho guardato i pack nova il pack con Spectrum che ha il tratto aereo e tutto l'unica carta che in realtà ho trovato riferita ai personaggi aerei è la Air Supremacy che è una carta leadership del pack di Starlord quando arriveremo ne parleremo che dice scegli fino a X nemici dove X è uguale al numero di personaggi aerei che controlli fai tre danni a ciascuno dei nemici scelti ora è chiaro che se noi abbiamo solo Starlord beh due per tre non è granché se noi cominciamo a avere Starlord e il nostro amico Falcon Sam Wilson beh allora capite bene che magari spendere due per fare tre danni a un nemico e tre danni a un altro soprattutto in multiplayer comincia a essere interessante anche perché non c'è un aspetto di dover tappare i personaggi quindi se poi a questo ci aggiungiamo Adam Warlock o altri personaggi che nel tempo hanno come dire acquisito o acquisito il tratto aereo per esempio con la Motorcycle che è questa giunta Sky Cycle veicola Greg Island Avenger massimo un'opera alleato l'eroe con questa il personaggio oh scusate l'alleato con questa giunta guadagna il tratto aereo esaurisce lo Sky Cycle ready attacce dalli quindi c'è qualcosa che a partire da il pack Starlord ci rimanda al tratto aereo un altro tema indiretto che può essere legato al tratto aereo è il lo sneak attack nel senso scegli un alleato nella tua mano che condivide un tratto con la tua identità metti quell'alleato in gioco e poi lo togli quindi capite che se voi pagate il nostro amico Sam Wilson 1 entra fa qualcosa vi guarda le carte può funzionare insomma ci sono dei semi di potenziamento del tratto aereo principalmente legati però al se il tuo eroe se la tua identità ha il tratto aereo quando invece comincia a crescere questo concetto del tratto aereo con il pack Angelo che è molto recente al tempo della registrazione del video che introduce delle carte aspetto che sostanzialmente vanno a avere come target non solo o non più l'eroe che ha quel tratto ma anche dei personaggi per esempio l'intervento aereo quando un personaggio dovrebbe prendere qualsiasi montare di danni da un attacco esaurisce una carta aerea e quei controlli previeni fino a quei tre danni chiaramente noi non possiamo avere falcon con l'intervento aereo quindi dovremo giocare altre carte aereo ma come dire il concetto è entriamo un pochino più nel vivo di quello che è il tratto aereo inteso come personaggi dal tratto aereo con cannonball con il potere of the power of light quindi raddoppia il numero di risorse che questa carta genera finché paghi quando paghi per una carta aereo con il soaring acrobatics che è ottima con falcon perché dice gioca sotto il controllo di qualsiasi giocatore massimo 1 per giocatore interruzione eroe quando un personaggio e questo è l'importante aereo che controlli usa un potere basico esaurisce il soaring acrobatics quel personaggio prende più 1 per quel potere per questo uso quindi vuol dire che il nostro amico Sam magari attacca due volte a tre o tre volte a tre o interviene tre volte a tre no quindi come dire questo era giusto un escursus e un look ahead in the future se possiamo dire probabilmente ci aspetta qualcosa in più nel senso che visto che non ci sono così tanti personaggi aerei non ci sono così tante carte aeree io mi aspetto tendenzialmente che vedete questa qua il flying formation con l'alliance quindi con la modalità e la possibilità di pagarlo tra più giocatore azionerò e stappa fino a tre personaggi aerei quindi è abbastanza interessante questo concetto poi vediamo come dire anche sullo sfondo mi sembra silver surfer e questo ci fa pensare non sarebbe la prima volta che abbiamo facendo come detto un salto nel futuro abbiamo qualche suggerimento su quella che potrebbe essere la prossima wave e quando dico prossima intendo quella dopo evoluzione futura in attesa di age of apocalypse no comunque tutto questo lungo scursus per dire che così come notazione che valgono tutte le considerazioni fatte su falcon dovremmo aspettare un bel po' prima di avere un potenziamento sensibile ragionevole del tratto aereo dicevo che c'è un po' di ruggine perché perché falcon in realtà lui vorrebbe entrare e uscire dal gioco continuamente per darvi questa abilità invece le sue statistiche sono statistiche di un alleato che tendenzialmente vorreste sfruttarlo appieno addirittura magari non vorreste neanche usarlo come blocco perché lo pagate 4 vi attacca 3 volte va a 6 e e e vi fa l'effetto quindi tutto questo ragionamento per dire attenderemo per vedere il tratto aereo sviluppato falcon ha comunque una sua solidità giocato in questo modo si intravede se vogliamo non una falla di design perché è una parola giusta però un come dire uno scostamento tra l'abilità di falcon e quello che le carte aeree portano a fare cioè tenere i personaggi in gioco perché il concetto è questo tutte queste carte come line in the sky il bombs away piuttosto che l'aereo l'intervention e così tendono a voler tenere i personaggi in gioco mentre voi vorreste sostanzialmente che falcon entri faccia qualcosa poi esca per poter rientrare e fare qualcosa di importante cioè andare a vedere il mazzo incontro e rimuovere le minacce per assurdo lo stesso altro falcon che è un aereo ma è un champion dice che quando falcon attacca o interviene spendi una risorsa stappa un personaggio champion che controlli cioè lui ha un approccio per cui vuole stare in gioco cioè voi non vorrete come dire vorrete capitalizzare suo stare in gioco come interviene o attacca pagate la risorsa stappate un champion lo stesso cloud9 che è un personaggio aereo della wave dei champion dice esaurisci cloud9 e scegli un giocatore fino alla fine della fase ogni personaggio aereo che quel giocatore controlla prende più uno quindi è un altro personaggio che entra in gioco ma non vorrete andare a far fuori proprio perché lo scopo è quello di utilizzarlo il più possibile in campo quindi insomma mi sono evidentemente dilungato su questo tema ma ci tenevo a vedere il fatto che falcon è il primo suggerimento di archetipo aereo è un po' acerbo rispetto a quello che sarà l'archetipo se vi piace il tema aereo ci sarà da aspettare un bel po' carta che la carta che secondo me invece in generale invecchia discretamente bene è squirrel girl ora squirrel girl noi abbiamo visto abbiamo fatto i vari ragionamenti sui costi e così via squirrel girl rappresenta il classico alleato che a costo 2 quindi 2 1 1 2 avenger risposta dopo che squirrel girl entra in gioco fai un danno ogni nemico il classico alleato che entra in gioco toglie una minaccia o fa un danno si prende un attacco esce dal gioco in particolare squirrel girl ha questa pazzesca capacità in alcuni scenari penso per esempio a ultron o scenari dove il villain riceve costantemente carta status robusto che dà un valore estremamente aggiunto rispetto a quelle che sono le sue statistiche perché se ci pensate bene entra e magari toglie il robusto al criminale perché il danno lo fa ogni nemico entra e magari fa fuori 5 minion perché ci sono 5 droni in giro ci sono dei minion che hanno un unico punto ferita rimanente quindi insomma la sua abilità è davvero in realtà notevole e il grosso vantaggio è che squirrel girl deve entrare in gioco non deve essere giocata dalla mano questa vuol dire che con il segnale di adunata o make the call che abbiamo visto nel corsetto e che peraltro è presente anche all'interno del pack capitano america squirrel girl può un po' ripetutamente fare questo effetto cioè entra in gioco la pagate 2 interviene 1 fa i danni a tutti i minion il turno successivo il criminale attacca muore riprende il vostro turno giocate make the call ributtate dentro squirrel girl fa un altro danno a tutti i minion e così via insomma può avere assolutamente una sua valenza e va a rinfoltire le fila del primo tratto di fatto che è affrontato in marvel champions che è il tratto avengers quindi assolutamente la accogliamo volentieri anche il costo è molto buono perché 2 è proprio il classico del entro faccio qualcosa prendo l'attacco e quindi tutto sommato aiuta parecchio questa cosa per cui accogliamo con piacere squirrel girl occhio di falco abbiamo già commentato ampiamente nel corset quindi non abbiamo granché da aggiungere però facciamo due considerazioni su wonder man wonder man è un alleato a costo 2 interviene 1 attacco 3 3 punti ferita avenger come costo addizionale per wonder man di attaccare devi invece scartare una carta dalla tua mano allora sicuramente avere un alleato dal costo 2 ad attacco 3 con 3 punti ferita vuol dire che potenzialmente wonder man vi va ad attaccare 3 volte a costo 2 sono 9 danni a costo 2 è tantissimo evidentemente ovviamente il suo obbligo fa sì che in realtà ogni volta che voi vorrete fare 3 danni dovrete spendere una carta per cui se voi fate attaccare 3 volte wonder man in realtà spendete i 2 per giocarlo più 3 carte per cui andrete a fare 5 di costo per 9 danni non è estremamente efficiente se voi lo fate attaccare 2 volte andrete a fare 4 di costo per 6 danni e un blocco anche qui forse non particolarmente efficiente tuttavia se esistono modalità con cui wonder man può tapparsi e fare cose quei turni dove non avete carte da dare in pasto wonder man può aiutarvi in questo viceversa quei turni dove fate comunque una buona mano con le carte che avete e vi avanza una carta beh wonder man può dire la sua quindi io mi figuro questo alleato come un alleato che mettete giù e non lo usate necessariamente ogni turno ma tenete lì pronti 3 danni quando o avete una carta che vi avanza o c'è un minion che non vi aspettavate e lo mettete in gioco o eccetera 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 alla peggio tra l'altro wonder man può entrare intervenire uno e anche prendersi un attacco non è particolarmente ottimizzato però teniamo presente che comunque esiste questa possibilità per cui altro alleato che aumenta un po' la schiera degli alleati a costo 2 che accogliamo volentieri perché gli alleati a costo 2 comunque introducono al gioco un approccio che è quello del riempio il borde di alleati per prendermi anche gli attacchi e wonder man tutto sommato non è da meno per assurdo avendo un 3 di vita può anche sopravvivere a un attacco 1 o un attacco 2 quindi voi in realtà magari di un minion voi lo mettete dentro lo usate un paio di volte come difensore poi magari solo all'ultimo attacco lo fate lo fate attaccare scartando una carta tra l'altro proprio in questo pack a breve vedremo una carta per cui wonder man può diventare utile e interessante carta che arriva nel pack di cap ovviamente è avengers assemble avengers unite un evento a costo 4 massimo 1 per round azione eroe stappa ogni personaggio avenger che controlli fino alla fine della fase ogni personaggio avengers in gioco prende più 1 alla minaccia più 1 all'attacco più 1 all'intervento più 1 all'attacco ecco questa è una carta che diventa di fatto la carta staple dei mazzi avengers perché perché è vero che costa 4 e di fatto giocherete solo questa nel turno ma questa è una carta che rimane nella vostra mano e come risorsa fino al late game quando entrate nel late game che cosa succede che magari avete giù 3 alleati avengers e un eroe avengers e magari siete in multiplayer e ci sono vari personaggi avengers in gioco beh voi vi svuotate la mano ma di fatto andate a stappare tutti i personaggi avengers che avete voi e a dare più 1 alle statistiche a tutti i personaggi avengers in gioco quindi facciamo un'ipotesi voi avete un personaggio avengers che attacca 2 3 alleatini che attaccano 1 voi fate il primo attacco con tutti 2 dell'eroe 3 4 5 dei personaggi e fate 5 danni poi giocate l'avengers assemble stappate tutto e mo' di danni non ne fate 5 ma ne fate altri 9 per cui fate un totale di 14 danni giusto 3 l'eroe 2 2 2 quindi sono 6 9 più avevamo detto 4 13 danni 5 14 danni sostanzialmente voi siete in grado con questa carta e con un board appositamente studiato di chiudere la partita cioè questa è una carta che magari fate avanzare il criminale allo stadio 2 il criminale vi da delle varie cose poi giocate l'avenger assemble con un mega attacco se poi siete in multiplayer questo è ancora più potente perché stappate un personaggio avenger che voi stappate ogni personaggio avenger che voi controllate ma tutti gli avengers in gioco poi prendono più uno quindi è una carta che peraltro per chi segue il canale ho giocato lungamente nella campagna che ho fatto quella con cap marvel di cui vi lascio il link qui ed è una carta che dà anche un'enorme soddisfazione perché l'idea di fare un final push con gli avengers e chiudere la partita è davvero sempre molto piacevole e molto benvenuta quindi carta che definisce un po' il modo di giocare se vogliamo anche degli avengers cioè quella di avere questi numero importante di alleati con questo push dell'avenger assemble per aiutarvi in questa cosa esiste anche l'onorario avengers l'avengers onorario un upgrade al costo zero titolo giocalo solo se la tua identità al tratto avenger quindi potrete giocarlo solo se il vostro eroe quando è in eroe al tratto avengers e non quando è in alter ego aggregalo a un personaggio amico il personaggio con questa aggiunta prende più unit point e guadagna il tratto avengers allora il fatto che guadagni il tratto avengers è utile per tutte quelle carte che aiutano gli avengers come avenger assemble il fatto che guadagna più unit point a costo zero per esempio se giocati su un alleato come potrebbe essere falcon che attacca due beh voi pagate zero per dare un più un punto vita al vostro alleato e di conseguenza per fare un magari un altro due danni quindi questa carta in realtà al di là del fatto che è utile per scombare con gli avengers ha anche una sua utilità per massimizzare quando un alleato può fare un attacco di un certo tipo due un intervento di un certo tipo due pensate a maria hill piuttosto che qualsiasi personaggio voi pagate zero gli date un punto ferita in più e gli permette di fare un'azione in più ovviamente nel turno successivo che altrimenti non avrebbe fatto per via del fatto che i danni conseguenti lo portano a morire quindi è una carta molto interessante sia perché vi permette di mettere diciamo il tratto avengers a personaggi e magari sfruttare appunto l'avenger assemble sia perché in realtà dando più longevità a un alleato che ovviamente non è un alleato di quelli che deve prendere mazzate in faccia ma di quelli che deve intervenire o attaccare questo vi permette di vi permette di ottimizzare e massimizzare il rapporto tra il costo della carta che è zero cioè la sola carta e magari un attacco 2 o un intervento 2 ovviamente ci sono le tre carte energia che non stiamo a commentare e sempre spingendo sull'aspetto dello swarm degli avengers c'è un supporto a costo 2 torre degli avengers avengers location se ognuno dei tuoi alleati ha il tratto avengers incrementa il limite di alleati di uno questo unito al triskelion fa sì che se avete uno swarm di soli avengers potete addirittura arrivare a giocarne cinque tra i tre base la torre degli avengers e il triskelion torre degli avengers che però ha anche un'azione che dice esaurisci la torre degli avengers riduci il costo del prossimo avengers alleato giocato in questa fase di uno quindi sostanzialmente niente da dire su questa carta must have quando avete tanti avengers perché con due con semplice due è una carta tra l'altro grigia per cui potete splasharla in qualsiasi mazzo anche se ragionevolmente per il momento il numero importante degli avengers si trova all'interno della sfera azzurra diciamo della leadership è anche un acceleratore di risorse cioè non solo vi ha un cremente al limite ma costantemente va a ridurre di due va a ridurre scusate di uno il costo questa si ripaga subito sostanzialmente dopo due alleati che avete giocato si è ripagata ma soprattutto incrementando il limite vi aiuta a rendere ancora più importante quella avenger assemble no perché poi io ho fatto il conto su eroe e tre e tre alleati ma immaginate che dei alleati ne avete quattro cinque immaginate che ogni alleato in più riceve più un attacco più un intervento quindi insomma no il peso di poter avere più alleati quando si utilizzano certe carte verso late game è davvero notevole abbiamo poi mockingbird che abbiamo già conosciuto e poi abbiamo un tripla copia il queen jet è un supporto dal costo 1 veicolo avengers dopo che il tuo turno inizia piazza un time counter sul queen jet azione metti un alleato avenger dalla tua mano in gioco con un costo uguale o inferiore al numero di time counter sul queen jet quindi scarta il queen jet beh questa è una carta che di nuovo stressa il concetto degli avengers che è una sorta di investimento cioè quando la giocate bene voi pagate uno e magari mettete dentro un falcon dopo qualche turno mettete dentro un falcon lo svantaggio di questa carta è che non è di fatto un riduttore di costo cioè noi che dite dopo tre turni tolgo tre segnalini pago un alleato avengers tre in meno no funziona solo quando il numero di risorse è maggiore o uguale al costo dell'alleato quindi significa che potrebbe funzionare male cioè potrebbe essere che voi la mettiate giù in primo turno ma non riusciate mai a pescare prima del sesto turno un alleato a costo 4 e di conseguenza questo vi sembrerà abbastanza inefficiente perché avete speso delle risorse oggi e magari ci vorrà un po' prima che questa cosa capitalizzi a me non dispiace nel complesso magari non in tripla copia ma in singola copia e mazzi con avengers il vantaggio è che anche un supporto costo 1 quindi se dovesse uscire qualche treceri qualcosa che vi distrugge i supporti non è neanche così malvagio è un buon investimento non la metterai in tripla copia però sicuramente in singola copia se avete avengers abbastanza grossi e poi qui si entrerà nel concetto ma quando il pool si estenderà dei voltron deck quindi dei mazzi che si basano poi intorno magari a un unico alleato che andiamo a bustare sicuramente il queen jet può dire può dire la sua abbiamo poi in tripla copia il make in doppia copia forse il make the call il segnale di adunata che abbiamo già commentato ampiamente sul corset e poi cominciamo con un'altra carta che a mio avviso poi invecchia benissimo che è la forza dei numeri lo strength in number se è un evento a costo zero azione esaurisce un qualsiasi numero di alleati che controlli pesca una carta per ogni alleato esaurito in questo modo anche di questo ne ho fatto ampio uso nella campagna con Capitan Marvel beh allora qual è la potenza di questa carta è che voi giocate un alleato fa cose poi decidete di non schiantarlo contro il criminale e lo lasciate lì poi fate il turno successivo ancora un alleato fa cose non lo schiantate nel turno successivo e via via cosa comporta questo che magari a un certo punto avete tre alleati quattro alleati voi li tappate questi alleati e pescate quattro carte e quindi se voi avete giocato alleati e siete man mano più avanti nel game è facile che le carte che pescate saranno eventi di attacco quindi questa carta può funzionare molto bene quando man mano che avete pezzi man mano che avete alleati e quindi che il vostro mazzo si snellisce rispetto a ciò che ha voi andate a tappare tre alleati e pescate tre carte inutile da dire che questa carta scomba benissimo con le altre carte del pack in particolare sia con l'Avenger Assemble perché perché voi potreste andare a tappare tre alleati pescare tre carte giocare l'Avenger Assemble stappare quegli alleati e fargli fare un push un attacco a valore molto più alto sia per esempio con Wonder Man perché diciamo che per quel turno voi non volete utilizzare Wonder Man perché non volete scartare la carta perché perché per come potete tapparlo e pescare carte insieme ad altri alleati oppure oppure può essere proprio quella carta che andate a scartare perché magari Wonder Man è in gioco da solo tappare Wonder Man per avere una carta non vi sembra efficiente e scartate proprio quella carta senza grandi remore quindi come dire Strength in Numbers diventa una carta che a mio avviso è molto importante anche in tripla copia quando fate uno swarm di alleati che magari hanno degli effetti di entrare in gioco e si basano sul tratto Avengers perché di fatto voi li andate a tappare pescate tante carte e questa cosa vi aiuta l'ho usata ampiamente nella campagna che vi dicevo prima quindi andate insomma se avete voglia andate a vedere un po' come ottimizzarla doppio potere della leadership e poi entriamo in quelle carte che arrivano ora con il pack di Capitan America di altri colori di altri aspetti in particolare c'è Followed in seguito credo che sia Upgrade al costo 1 aggrega una side scheme massimo 1 per scheme per trama non è una risposta ma è un'interruzione questa carta ha ricevuto una sistemazione una FAQ risposta quando la trama con questa giunta è sconfitta fai 4 danni a un nemico molto solida all'interno di un mazzo giustizia in scenari che possono avere trame secondarie è molto solida perché voi pagate uno per fare 4 danni quindi siamo nell'ambito della perfetta curva di efficienza anzi ben oltre la perfetta curva di efficienza se poi a questa avete anche una sala interrogatori che quando avete sconfitto una side scheme fate un danno a un minion beh comincia ad essere davvero abbastanza interessante quindi è una carta che magari in tripla copia non la metterei per il rischio di non avere side scheme a sufficienza ma siccome poi bene o male le side scheme ci sono spesso durante le partite magari non frequentissime ma ci sono è una carta che può avere assolutamente il suo senso in una build giustizia che magari è più spinta anche verso fare danni perché magari in multiplayer il giocatore giustizia deve solo rimuovere minacce ci pensa a quella aggressione a fare danni se invece siete in giocatori singolo beh può essere utile perché voi fate bene fate quello che dovete fare lo fate bene cioè intervenire e in più fate anche dei danni tra l'altro l'enemy può anche essere un criminale può anche essere il criminale per cui alla peggio in realtà se non c'è un minion li sparate sul criminale che male non fa pagate uno e avete comunque quattro danni e un nemico interessante un filino meno interessante ma comunque sempre tematica col cap è la difesa esperta un evento costo zero difesa interruzione eroe quando il tuo eroe difende contro un attacco prende più tra la difesa con questo attacco ora questa è una carta che poi in realtà acquisirà molta importanza successivamente perché perché poi usciranno tutte quelle carte che andranno a contribuire all'archetipo della difesa perfetta cioè l'unflapable l'artuignor l'energy barrier e così via cioè tutte quelle carte che daranno vantaggi sensibili quando difenderete senza prendere danni ora è importante difendere senza prendere danni ma come dire potrebbe essere un po' sprecata magari vi serve un più uno difesa questa vi dà più tre a costo zero può essere utile dovete comunque generalmente tappare il vostro personaggio a meno che non avete giocato i venti dal tratto difesa che quindi potreste giocarci sopra questa ma avrebbe poco senso se il personaggio non usa la difesa quindi di fatto dovete andarti a tappare sto personaggio è una carta che probabilmente rivalutiamo più là nel senso che non che adesso non sia utile ma diventerà molto più utile successivamente quando le carte staple per fare difesa perfetta cominceranno a riempire il nostro pool e di conseguenza penso eroi come spider gwen ghost spider piuttosto che gruth piuttosto che eroi che fanno della difesa tra axe se vogliamo anche se non è che lui proprio difende però diciamo eroi che fanno della difesa il punto di forza questa carta diventerà sicuramente più utile una volta che avremo buildato tutto ciò che serve a noi ad essere contenti quando il villain ci attacca e soprattutto quando non prendiamo danni quindi diciamo la guardiamo in maniera interessata ma la la rivaluteremo un pochino più in là quando avremo qualche carta in più carta neutrale abbiamo l'enhanced awareness un upgrade a costo 2 3 usi risorsa eroe esaurisci l'enhanced awareness e rimuovi una risorsa un mental counter genera una risorsa azzurra ora è una risorsa è un'energia mente scienza ora questa è utile per esempio mi viene in mente per iron man iron man se vi ricordate ha gli stivali che se genera una risorsa azzurra gli danno il tratto aereo col tratto aereo fa più male con i guanti e così via e questa qua può essere utile in una build con iron man in singola copia la giocate man mano che costruite l'armatura rendete aereo il vostro il vostro eroe usando questa carta un'altra ipotesi è quando avete una build giustizia e volete sempre essere efficienti nel giocare il for justice che abbiamo visto nel corset il for justice vi permette di togliere quattro minacce se pagate con una risorsa mentale e quindi questa mi aiuta diciamo più in generale queste carte forse perdono un po' man mano che il gioco va avanti però nell'early nello stadio iniziale nel meta iniziale del gioco queste carte avevano un buon valore perché si pagava due per ipotecare tre risorse da utilizzare nel momento in cui vi serviva nelle mani in cui vi servivano e del tipo che vi servivano quindi diciamo tra l'altro ci saranno altre copie se non sbaglio nei prossimi pack con lo stesso concetto di generare una risorsa di un certo tipo se avete build specifiche in cui queste risorse vi servono assolutamente sì se no possono essere un'alternativa o un affiancamento alle classiche risorse perché vi aiutano magari a proprio vi serve quella risorsina per fare quel turno un po' più forte degli altri giocando un evento in più e quindi l'avete ipotecata in un turno in cui magari eravate più tranquilli e quindi possono avere il suo senso può avere il suo senso così se no altrimenti per esempio Iron Man o anche altri eroi che utilizzano i concini mentali può essere utile l'ultima carta che vediamo un upgrade a costo 1 Enraged condizione attacco a un alleato massimo 1 per alleato l'attaccia dall'alli prende più 2 all'attacco e prende più un danno conseguenziale dopo che attacca allora io questa carta la vedo come pago 1 per fare 2 danni come su un alleato che naturalmente sarebbe morto comunque cioè un alleato a cui manca già un punto ferita gli attaccate l'Enraged attacca prenderebbe un danno 2 danni conseguenti sarebbe morto lo stesso diventa una carta la cui curva di efficienza è non eccelsa ma pago 1 per avere 2 poi esisteranno altre build che aiuteranno questa cosa magari quando si potrà sommare gli attacchi degli alleati all'attacco dell'eroe esisteranno carte che miglioreranno questa cosa per il momento io la vedrei come un semplice 1 per 2 che non è altissimo c'è sicuramente di meglio però tutto sommato non è neanche così male quindi non è la carta forse principale che andrei a usare però come dire può avere il suo perché se vista in quest'ottica in pura e semplice pago 1 per fare 2 danni al momento che mi serve ovviamente non la giocherei mai su un alleato che magari ha 3 punti ferita ne ha già attaccato una volta non ha senso mettergliela su per farlo morire prima a meno che non sia un push finale ma insomma in generale lo scopo sarebbe quello di massimizzare i danni minimizzando il drawback minimizzando quello che è lo svantaggio quindi questa è un po' è un po' l'idea bene mi sembra che abbiamo coperto tutte le carte del pack Captain America io spero che questo video vi sia piaciuto continueremo la nostra analisi con i prossimi pack io vi ringrazio ciao alla prossima